Si è ufficialmente insediato oggi il nuovo prefetto di Teramo Fabrizio Stelo, laureato in scienze politiche, anche giornalista e con un bagaglio professionale acquisito nel corso di numerosi incarichi negli uffici centrali del Ministero dell'Interno e sul territorio e arriva dalla prefettura di Oristano. Prendo servizio stamattina, sono onorato e lusingato di essere da oggi il prefetto della provincia di Teramo e già da oggi mi rimbocco le maniche e cercherò di fare tutto il possibile per questa provincia meravigliosa. Saranno giorni intensi di conoscenza di persone e di cominciare a conoscere anche le principali problematiche di questo territorio. Un territorio che purtroppo ha sofferto soprattutto in primis anche per i segni lasciati dal terremoto, ma ha tanta voglia di riprendere il proprio ritmo a livello locale e non solo. Certamente. C'è intanto una generale voglia di riprendersi dopo due anni di pandemia, ovviamente, che ci ha veramente sconvolto la vita, non solo quella lavorativa, ma anche proprio quella familiare, dei rapporti sociali. Poi c'è la voglia di ripartire, in questo caso anche dalle conseguenze di un maledettissimo terremoto e di un'economia in generale che ha bisogno proprio di ripartire. Quindi è un periodo bello, nel senso che ci sono dei belli obiettivi che speriamo piano piano di raggiungere uno per uno. Nato a Roma e residente da anni a Siena, Teramo è la sua seconda esperienza da prefetto. Prima di arrivare a Oristano ha lavorato al Ministero degli Interni e precedentemente è stato capo ufficio delle prefetture di Firenze e Livorno. Incontrerò tutti e ascolterò tutti, come ascolterò i cittadini, per cercare di mettere il mio piccolo, grande contributo per Teramo e per tutta la sua provincia. Quindi massima disponibilità al territorio? Beh, diciamo massimissima, se fosse possibile dirlo. No, assolutamente sì. Massima, completa. Andrò molto in giro per la provincia, proprio per parlare direttamente con le persone, vedere con i miei occhi le realtà, le bellezze anche di una provincia bellissima. Non solo i problemi, insomma, tutte e due, sia le cose belle sia le cose brutte su cui lavoreremo.